Amici di Real Rieti Channel e del Futsal, buon pomeriggio, benvenuti in questo spazio dedicato al settore giovanile del Real Rieti. Apriamo questa rubrica con l'intervista al neo allenatore della squadra Under 21, Daniele Palenga, che ci introduce la prima giornata di campionato contro la Marannursia in programma domenica 26 ottobre alle ore 11 alla Palamalfatti. Ricordando tra l'altro che andremo anche in diretta streaming per la gara integrale, quindi di un esordio, quello della formazione Under 21, contro uno degli avversari sicuramente più importanti e più temibili di questo girone. Nel corso della stagione si avvicenderanno tutti i protagonisti del vivaio Amaranto Celeste, Under 21, Juniors, Allievi, il femminile e anche, perché no, tutti gli istruttori della scuola calcio che quotidianamente lavorano alacrimente al Palamalfatti. E allora io vi lascio all'intervista, conferenza stampa, del tecnico Daniele Palenga e vi do appuntamento ai prossimi incontri, sempre qui su Real Rieti Channel TV. Diamo il buon pomeriggio a Daniele Palenga, neo allenatore della formazione Under 21 del Real Rieti. Allora Daniele, la domanda è d'obbligo, iniziamo dalla fine, quindi dagli ultimi eventi. L'esonero di Marco Abbati, con il quale hai condiviso la scorsa stagione e l'intera preparazione atletica attuale. Un tuo pensiero su questo esonero e soprattutto in prospettiva, come vedi l'inizio di questa stagione? Buonasera Marco, buonasera a tutti gli amici del Real Rieti innanzitutto e a tutti gli amici del Full Salve. Come tu hai detto, sì, neo allenatore, purtroppo da ieri non ci sarà più la figura di Marco Abbati all'interno della società. È una persona che tutti stimano, tutti sanno essere un grande uomo di sport e soprattutto per me è un grande amico. Purtroppo non lavorerà più con noi proprio da ieri, cercheremo in tutti i modi di colmare questo grande vuoto che ci lascia. Però voltiamo pagina, andiamo avanti, domenica affronteremo la prima partita di campionato contro la Maran, una partita sicuramente difficile, dura. In questi tre allenamenti che faremo questa settimana cercheremo di provarci al meglio, non buttando al vento tutto quello che di buono abbiamo fatto con il mister Abbati sia l'anno passato sia in questo inizio di pre-campionato. Cercheremo di fare una bella partita davanti al nostro pubblico, davanti al Presidente, perché così ci ha chiesto, tenendo alti colori sempre del Real Rieti. Per te la prima esperienza vera da primo allenatore, so che hai studiato molto per poter arrivare a questo, hai seguito molto anche nell'ombra quello che è il lavoro della prima squadra, quello che è stato il lavoro insieme al tecnico Marco Abbati. Quali sono le tue aspettative personali su questa esperienza? Allora sì, ormai questo è il terzo anno che sono qui a Reale, ho incominciato appunto tre anni fa con il mister Ramiro Diaz, poi ho proseguito con Fabrizio Ranieri, poi con Diego Giustozzi, poi l'anno scorso con Antonio Ricci, sempre l'ombra della prima squadra come dicevi tu. Sono stati momenti di crescita, dopo questi tre anni vissuti in allenatore in seconda, se così si può dire, oppure collaboratore tecnico, chiamamolo come vogliamo, mi è stato affidato il compito da primo allenatore di quest'anno del 21. Io studio molto, ho studiato, studierò sicuramente e lavorerò in sintonia con il mister Patriarca, perché anche lui ci darà una mano sicuramente e cercheremo di fare il meglio per i nostri ragazzi e per la società. Hai anticipato tu questo esordio domenica in casa, un avversario tosto, un avversario che ha tradizione Wutzal e quindi sicuramente un avvio che non sarà sicuramente un impegno materasso, però la squadra rispetto allo scorso anno cosa ha perso e cosa ha guadagnato da un punto di vista proprio tecnico? Dal punto di vista tecnico, come abbiamo parlato fino all'altro giorno con Mr. Abbati, secondo il nostro pensiero e da adesso in poi sarà il mio pensiero, ha guadagnato molto, perché ci sono degli elementi nuovi, è vero sì, degli elementi che vengono dal calcio, vedi Martinelli, vedi Tramontano, però ci sono già elementi consolidati che già giocano da molto tempo a calcio a 5, vedi Marinelli, vedi lo stesso Esposito che ha aggregato con la prima squadra. Quindi è un mix di giovani, bravi, di ottime speranze che sicuramente sapranno lavorare bene, sapranno impegnarsi perché già lo fanno da un anno a questa parte e sicuramente ci daranno molte soddisfazioni. Ecco, hai toccato e affrontato un tema anche molto importante, curioso e interessante da studiare. Tanti giocatori che quest'anno hanno deciso di abbandonare il calcio a 11 per cimentarsi nell'esperienza futsal. Ne hai detti alcuni tu, ne aggiungo uno io, Luca Salvi, che fino allo scorso anno giocava nella prima squadra di eccellenza dell'FC Rieti. Come è stato il loro impatto con questa nuova disciplina e soprattutto come si sono integrati nel gruppo? Sì, chiedo scusa a Luca per averlo dimenticato, ma non perché, perché lui si è integrato talmente bene che se tu lo vedi giocare non sembra il primo anno. Gli altri si stanno integrando, chi più e chi meno, però sono tutti vogliosi, hanno tutti voglia di imparare e di far crescere questo movimento, quello del calcio a 5, che non sono certo io a dirlo, che sta avendo enorme successo dentro e fuori i palazzetti. Ecco, erediti anche un'incombenza, ovvero la cavalcata trionfale dello scorso anno, un percorso netto fatto di sole vittorie e un record anche a livello di gol segnati. Come si può replicare questo risultato e soprattutto il girone di quest'anno lo può consentire? Allora, se il girone lo può consentire, questo sinceramente non lo so. Sulla carta ci sono squadre più attrezzate rispetto all'anno scorso, vedi la stessa orte con cui abbiamo fatto un paio di amichevoli nel precampionato, sicuramente è una squadra ben attrezzata, allenata da Ramiro Diaz, un allenatore che non certo devo stare io a presentare, composta di ragazzi italiani e spagnoli, quindi una squadra sicuramente penso più forte rispetto a quella dell'anno passato. Anche la Maran è un ottimo organico, anche loro hanno degli stranieri, quindi ci sono squadre molto attrezzate. Sicuramente ripetere l'impresa dell'anno passato, ossia quella fatta di sole vittorie e il record dei gol segnati, sarà molto difficile, ma il nostro obiettivo è sempre superarsi, quindi l'anno scorso le abbiamo vinte tutte, abbiamo fatto il maggior numero di gol, quest'anno l'obiettivo è rivencerle tutte e magari superare il numero di gol fatti per poi accedere ai play-off e cercare di fare meglio rispetto all'anno scorso, perché secondo me le potenzialità ci sono, ci sono come ripeto ragazzi bravi e penso che con la voglia di lavorare, la voglia di divertirsi soprattutto, potremo arrivare lontano. Ci sono elementi che potrebbero addirittura scendere dalla prima squadra in caso di necessità, ne cito uno su tutti, Caio Junior, che è tra l'altro uno che in prima squadra ha già dimostrato di avere i numeri importanti per poter far bene. Quanto questo aiuto vi può interessare e soprattutto cosa vi porta in più rispetto a quello che studiate e provate ogni giorno? L'apporto di Caio Junior sicuramente sarà un apporto fondamentale, lui lavora da anni con tecnici preparatissimi sempre nel giro della Serie A, è un giocatore brasiliano quindi un giocatore non nuovo a questo sport, dovrà essere bravo lui ma dovremo essere bravi anche noi a farlo sentire parte del gruppo quando verrà deciso di farlo venire a darci una mano. Tra l'altro c'è già un elemento in squadra, ovvero Johnson, il portiere, che ha già esordito in Serie A lo scorso anno con il Caos Futsal, quindi questo è già un valore aggiunto probabilmente tra i pali dove c'era, diciamo così, era rimasto un vuoto dopo l'uscita di scena dei portieri dello scorso anno. Sì esatto, abbiamo in porta Johnson, ragazzo del Caos Futsal, ragazzo che anche lui ha sempre militato in società importanti, sono tre anni che lui arriva sempre a fare le finalette di Coppa Italia o le finalette di Scudetto, quindi un giocatore pieno di esperienza, un giocatore che potrà darci sia una grande mano in mezzo al campo ma soprattutto fuori, aiutare i giovani, i più piccolini rispetto a lui ma anche i meno giovani a fare un grande gruppo e proseguire il cammino della crescita. Ok, in conclusione al tecnico Daniele Palenga, diciamo solo questo, cosa ti aspetti da questa stagione, personalmente quale obiettivo ti prefigli di raggiungere al di là di quello che poi sarà l'aspetto prettamente sportivo? L'obiettivo che mi prefiggo è lo stesso obiettivo che ho già detto ai miei ragazzi, sicuramente migliorarci rispetto all'anno scorso, perché ci sono le possibilità, ci sono i mezzi per farlo, la società ci ha messo a disposizione tutto il materiale, tutte le persone che ci seguiranno, che ci daranno una mano, tutto per fare meglio, dovremmo essere bravi noi, soprattutto io, ma in primis i ragazzi perché poi sono loro che vanno in mezzo al campo, sono loro che decidono le partite, a cercare di ripagare la fiducia che ci è stata data. Ringraziamo Daniele Palenga, tecnico dell'Under 21, per averci dedicato questo spazio e con noi diamo appuntamento agli sportivi del Futsal a domenica 26 ottobre alle ore 11 al Palamalfatti per la prima giornata di campionato Real Rieti Marannursia, ricordando che la gara sarà anche trasmessa in diretta, in streaming proprio su realrietychannel.tv Grazie a te Marco per questo splendido momento, invito tutti gli appassionati di Futsal a seguirci domenica mattina, ma anche le domeniche che verranno, grazie a tutti voi e arrivederci.